Presidente, il Crotone è sicuramente una squadra molto forte, lo ha dimostrato per gran parte della partita, però a conti fatti nessun tiro in porta, quindi forse una sconfitta che brucia? Lo sapevamo che il Crotone è una squadra forte, costruita per cercare di vincere il campionato, però a me non mi è sembrata che ci fosse questa differenza in campo, perché Pescara ha tenuto molto bene il campo e la partita secondo me si poteva risolvere solo da una parte e dall'altra in un modo come si è risolta, c'è stata una punizione tra le altre cose, prima c'era un fuorigioco, poi abbiamo preso la punizione contro, una deviazione e prendi gol, poi dopo il gol si è giocato praticamente 5 minuti, che erano sempre a terra, quindi non è che si sia giocato più di tanto, però sapevamo che oggi era una partita difficile, però la squadra ci ha messo tutto quello che ci aveva, forse all'inizio è entrata un po' timorosa rispetto alle altre partite perché sapeva di incontrare una squadra forte, però poi ha giocato la sua partita come al solito, e il fatto stesso che il pubblico abbia apprezzato quello che ha fatto la squadra vuol dire che siamo sulla strada giusta. Presidente, esce un po' ridimensionato il Pescara contro il Crotone rispetto alle prime due partite oppure lei è soddisfatto? No, no, non esce assolutamente ridimensionato, esce con una sconfitta che purtroppo brucia per come è arrivata, però dobbiamo anche essere obiettivi e sapere che comunque ci sono squadre attrezzate, forse più di noi, però oggi obiettivamente non mi sembra di aver visto una squadra che ti ha surclassato, una squadra che comunque ha giocato bene, ha fatto delle ripartenze importanti con i due velocissimi che ha, ha chiarito che è tecnicamente un giocatore importante per la categoria, però Pescara ha fatto la sua parte senza nessun problema. Che cosa si sono fatti per la Cani in grosso? Ci può dire qualcosa? In grosso non lo so, però credo che, insomma, mi diceva prima proprio Gianmarco che ha avuto forse un... non lo so, forse come si è allungato, probabilmente ha sentito qualche dolore. Per la Cani speriamo che non si sia fatto nulla, ma temo che si sia fatto qualcosa di importante. Del tipo? Eh non lo so, domani un attimo il professor Tavoglieri lo visiterà, però il ragazzo non sta bene, quindi speriamo che non sia nulla di grave perché sarebbe veramente una grave partita. Nel caso c'è il mercato degli svincolati o non ci pensate? Ma non ci pensiamo perché gli svincolati che sono pronti per giocare ce ne sono pochi, quindi sarebbe da aspettarli due, tre mesi, anche due mesi, anche 60 giorni. Cioè trovare uno che è pronto, se trovassimo uno pronto sì, però diversamente sarebbe un problema. Ma come si è fatto male per la Cani? Il riscaldamento, con un cambio di direzione. Quindi il ginocchio? Sì. L'ultima da parte mia, poi le domande da studio, presidente. Il rammarico c'è sullo 0-0 per quella bella palla che ha messo Moro a Tupta e poteva fare forse qualcosa di più? O l'episodio non conta in questa partita? No, no, ma io credo che abbiamo avuto delle occasioni noi, le hanno avute loro. Lo dicevo prima con il direttore del Crotone. Era una partita questa che poteva finire tranquillamente 0-0 e che poteva essere risolta da un lato e dall'altro con un'azione di questo tipo qua, una pulizione, un calcio piazzato, un calcio d'angolo, qualcosa del genere. Purtroppo così è stato, purtroppo l'hanno risolta loro. Allora andiamo con le domande da studio, il presidente è qui che vi ascolta. Facciamo una domanda veloce e la facciamo fare a Fabio, naturalmente. Ciao presidente, volevo soltanto chiedere se questa partita comunque vi dà ancora la convinzione di poter lottare. È vero che è passato talmente poco tempo con le prime o già da oggi c'è da pensare che il Catanzaro faccia un campionato a parte? Perché il Crotone, come ha detto bene tu, non lo vede una squadra molto superiore a Pescara. Il Catanzaro ha fatto, credo che ha messo insieme una bella corazzata. È anche vero che il calendario sia nostro che del Crotone e delle prime partite è un pochettino diverso dal Catanzaro. Per cui noi abbiamo iniziato subito con l'Avellino, siamo andati a Latina, oggi il Crotone, poi andremo a Viterbo, poi andremo a Foggia. Il Catanzaro ha iniziato un pochettino meglio in questo campionato, però sicuramente è una squadra molto forte. È chiaro che a vedere quello che hanno fatto nelle prime tre partite è sicuramente la candidata numero uno. Però in questo campionato ci sono diverse squadre attrezzate che possono dar fastidio. Quindi noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e secondo me ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Massimo, non so se hai una domanda anche tu per il Presidente. No, vabbè, per quanto riguarda i centrali speriamo che non si tratti di nulla di grave per Pellacani che tra l'altro aveva fatto registrare un ottimo impatto su questo campionato. Ci sarebbe l'opzione, voglio dire, De Marino che è un terzino ma all'occorrenza può giocare anche centrale in emergenza. Sì, abbiamo quella possibilità perché De Marino l'ha già fatto, speriamo che anche Gianmarco stia bene, non sia fatto nulla di grave. Alla fine c'è sempre i quattro difensori sperando anche che magari Filippo non si sia fatto così male.